Allora, riprendiamo da dove ci siamo fermati. Parliamo d'amore. Parliamo della relazione che si deve instaurare tra noi, organizzazione, noi fundraiser ma anche organizzazione in senso più lato e i sostenitori che iniziano a essere potenziali, sono più qualificati e poi mano a mano diventano effettivamente sostenitori e quindi si procede nell'aumentare il sostegno e sviluppare insieme. Insieme percorsi che magari adesso non immaginiamo neanche di poter realizzare. Allora, come dicevo prima, la metafora che mi è venuta in mente, terribile e banale, è quella delle tappe non banale, le tappe di una relazione amorosa. Banalissima è la rappresentazione cinematografica della prima base, seconda base e terza base, come nei film e college movies. E allora, praticamente, è la metafora del percorso per trasformare un suspect in prospect e quindi in donor. La prima base è ottenere il minimo indispensabile, un segno di vita dallo spazio profondo, un indirizzo email, piccoli segnali, un like messo sulla pagina di facebook, su una foto, su una cosa, insomma, qualche segno di vita, l'indirizzo postale, proprio quello stradale, insomma, col codice, eccetera, eccetera. Un segnale di interesse. La seconda base, ovviamente, è l'accettazione, insomma, a ricevere comunicazioni rilevanti e mantenere il rapporto ottenendo risposte. E queste risposte saranno chiari segnali di interesse. Cioè, non lo so, magari qualcuno addirittura ci potrebbe scrivere una mail di risposta ringraziandoci di aver mandato il programma degli eventi. oppure potremmo verificare che hanno partecipato a una, due, tre serate che abbiamo organizzato, oppure hanno portato, che ne so, se sono fatti vivi, sono venuti a salutarci al banchetto di raccolta fondi che abbiamo organizzato i pomeriggi, cinque pomeriggi, cinque sabati pomeriggi nel mese X. Quindi, insomma, un segnale evidente di interesse. Magari hanno lasciato una monettina. Una newsletter, l'interazione sociale, la risposta a un sondaggio, ecco, una cosa che ogni tanto è sbucata e ve la ribadisco ancora, fate domande alle persone con cui siete in contatto, fategli rispondere a domande per voi importanti, sulla qualità della proposta che fate, sugli interessi, se intercettate per bene gli interessi. Addirittura, quando come organizzazione vi trovate magari davanti a un bivio proprio operativo, diciamo così, ma sarebbe meglio fare così o sarebbe meglio fare cosà? Una strategia, se avete del tempo, è chiedere ai vostri sostenitori, che sono parte integrante della vostra organizzazione. Non dovete pensare che voi dirigete e gli altri sono così, soggetti che ogni tanto vengono. Rendeteli partecipi anche di alcuni livelli decisionali. Cioè, se noi facessimo tra A e B, quale delle due opzioni secondo te potrebbe essere più utile, più funzionale, più efficace? E così non è detto che dobbiate seguire quello che dice il sondaggio, però comunque vi dà un segnale. Vi può levare un pochino dalle impasse e in ogni caso ogni decisione che prenderete sarà più motivata, più sostanziata, più autorizzata, non so come dire, da un numero di persone che l'hanno in qualche modo sposata. Un altro segnale di seconda base, diciamo così, di mantenimento e riscaldamento della relazione, potrebbe essere anche la sottoscrizione, insomma, il fornire da parte di queste persone ulteriori elementi anagrafici. Magari appunto rispondono a quelle schede classiche, titolo di studio, interesse principale, che ne so. Potete fare sondaggi di tutti i tipi, dal marketing ne fanno di ogni tipo, chiedono anche alle volte quando ti fanno magari un'intervista telefonica o anche nei form ti chiedono il reddito, addirittura dati un po' interessanti in questo senso. E lì potrebbe un domani venirmi in mente, quando ne avete, insomma, pensate che possa essere utile, potreste anche chiedere il livello di reddito così per capire magari il potenziale di donazione. Che poi non è detto, perché le statistiche ci dicono, è uscito un articolo molto interessante, molto provocatorio. Negli Stati Uniti hanno fatto una ricerca e hanno notato, e il titolo e il contenuto è la ricerca, quindi io riporto parole d'altri, che i ricchi sono stronzi, cioè i ricchi donano meno delle persone che hanno meno. Cioè è proprio un dato scientifico. Hanno sondato per otto anni tutta un'amplissima platea di sostenitori e hanno notato che nel corso degli anni, quantitativamente, le persone con reddito inferiore avevano donato di più delle persone con reddito maggiore. Quindi anche lì, il dato sul reddito è da prendere comunque con le molle. È la disponibilità al dono quella che dovremmo maggiormente indagare, però la disponibilità al dono è un dato immateriale che arriva dopo un po', non è immediatamente quantificabile. La terza base, quindi, l'obiettivo, insomma, della nostra storia d'amore è la sollecitazione diretta. Ho ottenuto il permesso, ho capito che sei la persona giusta per me, ti chiedo se vuoi fare un ballo con me. Arrivo proprio all'esplicita richiesta di sostegno. E anche qui, dentro questa fase, ci sono delle ulteriori piccole tappe. Iniziamo con una piccola richiesta, non andiamo subito a chiedere 100.000 euro. Iniziamo con una piccola donazione, un piccolo sostegno, la partecipazione a un evento in maniera un po' più strutturata, acquistare un prodotto che fa parte di una nostra campagna di raccolta fondi. E se le risposte continuano a essere sì, vuol dire che stiamo lavorando bene e dobbiamo perseguire questa strada. Se invece purtroppo la risposta è addio, dobbiamo ragionare in termini di maggiore attenzione alle fasi, dobbiamo ripartire da zero purtroppo, però ci può stare anche quello, può darsi che qualche volta invece la risposta sia interlocutoria, sia riprova, sarei più fortunato, non ora. E allora teniamola lì la cosa, non siamo ancora nella fase calda, siamo ancora in una fase tiepida, c'è bisogno di farci conoscere meglio, condividere più cose, essere un pochino più coinvolgenti forse, dobbiamo farci venire in mente come mantenere queste strategie. E adesso una cosa che secondo me è assolutamente bellissima, nel senso che non ci si pensa facilmente, però ne parlavamo prima con Marisa e con Domenico, ed è quello che ho definito la benedizione di essere lasciati. Anche nelle storie d'amore purtroppo, quando si tira il cadavere per i piedi, insomma è bruttissima quella roba lì. Cioè è meglio mollarsi, meglio essere liberi. E allora anche con i donatori, che benedizione quando ci hanno lasciato qualche volta? E ve la spiego così. Praticamente fa parte sempre del discorso di igiene. Se nella nostra lista si riesce a eliminare i soggetti che riempiono, fanno numero, ma che alla fine non portano effettivi risultati, ma ai quali comunque noi spediamo tutto, per i quali noi comunque perdiamo del tempo o del denaro, ma che alla fine non ci portano tanto risultato, e beh, quella è una grande liberazione. Perché se invece di avere 50 nomini abbiamo 28, su cui però veramente possiamo contare tutte le volte che li sollecitiamo, è un gran bene. Perché noi dobbiamo puntare, come dicevamo stamattina, a razionalizzare al meglio e ottimizzare al meglio il processo in efficacia, ma anche in efficienza, cioè col minimo spreco, diciamo, di energie. Tra l'altro, dobbiamo pensare proprio in quest'ottica a rendere molto semplice al donatore il fatto che ciascuno prenda la sua strada. Cioè, facciamoci lasciare con facilità. Perché questa cosa ha, secondo me, marca un rispetto dello spazio, tempo, denaro, impegno, eccetera, che hanno gli altri. Cioè, nel senso, se loro comunque, quelli che ci seguono molto, quelli che si impegnano con noi, noi li consideriamo al pari di quelli che non si fanno mai vedere, non va bene. Dobbiamo immaginare comunque di graduare un pochino il rapporto. Sono nella nostra lista, ma non ci aiutano. E diamo comunque a loro tutte le stesse informazioni, benefit, eccetera, di quelli che non si fanno mai vedere. No, non va bene. C'è bisogno proprio di mantenere chiari i ruoli definiti e via dicendo. Quindi, che sia facile contattare via mail o telefono la persona incaricata di cancellare dalle liste. Chi non vuole più ricevere le nostre comunicazioni deve sapere con immediatezza chi contattare per non ricevere più notizie. Come faccio a non ricevere più le newsletter? Quel bottone che vi dicevo che va messo tutte le volte. E le risposte devono essere immediate e sul momento, probabilmente, sarà doloroso, perché abbiamo perso un contatto, perché ci abbiamo fatto dei sogni sopra, ma poi alla lunga vedete che la qualità della nostra lista di contatti porterà dei grandi risultati, senza alcun dubbio. Allo stesso tempo, noi però, raggiunto un risultato X, successi, processo, le donazioni arrivano, tutto sommato, c'è un buon rapporto, ci si continua a frequentare, le informazioni girano, i feedback arrivano e sono abbastanza positivi. Questo non vuol dire che abbiamo finito di lavorare, anzi, perché in questo campo, in realtà in tanti, però secondo me in questo primariamente, sedersi sugli allori è assolutamente deleterio, perché rischiamo di perdere di vista che non abbiamo un orizzonte di tempo corto, abbiamo un orizzonte di tempo lungo, quindi dobbiamo mantenere vive tutte le situazioni. E quindi c'è sempre spazio per migliorare la qualità delle nostre interazioni con i sostenitori. Possiamo inventarci dei benefit nuovi, possiamo inventare occasioni per conoscere il loro pensiero, per coinvolgerli sempre di più, non per rompergli le scatole, ma per far sì che i loro primi approcci vengano incoraggiati, alimentati e massimizzati. Se all'inizio qualcuno pensa di dare due soldini, poi le può dare di più, poi magari se glielo chiedi può anche venire a darti una mano durante un evento, poi se viene a darti una mano durante un evento, magari dopo due o tre volte lo coinvolge e lo fai dire ma senti, ma hai voglia di venire in associazione proprio nel direttivo a decidere un po' delle cose che stiamo facendo? Cioè, così si trovano nuovi soci anche, e soci operativi, che sono un tesoro assolutamente inestimabile, perché fanno arrivare nuove idee, nuove competenze, nuovi contatti, nuove reti. Quindi i meccanismi per tenere, appunto, per migliorare la qualità delle interazioni sono molteplici, dobbiamo solo pensarci, starci attenti e portarli avanti. Cosa volevo dire ancora? Appunto, chiedere rinnovo, indicandola, possiamo anche rendergli la vita facile in questo senso. Li conosciamo? Qual è il meccanismo di richiesta del rinnovo che loro preferiscono? Preferiscono una email, preferiscono una telefonata, preferiscono una lettera, un bollettino postale, preferiscono passare in sede e lasciarti la quota. Segnaliamolo, rendiamogli la vita facile, facciamoli sentire davvero a casa loro, in questo senso. E sicuramente anche queste piccole attenzioni, che sembrano cose da niente, procedurali, in realtà qualificano e migliorano il rapporto e la relazione. È come se io, appunto, venissi accontentato tutte le volte che chiedo qualcosa a un ente, a un soggetto. Cavoli, mi ascoltano, mi sono vicini, mi sono conseguenti. Questa cosa è molto positiva. Ho voglia di dargli una mano, probabilmente sono stati così bravi con me e viceversa. Perché il permesso a essere contattati, che dicevamo prima, all'inizio, può essere dato magari per buona sorte, ma può essere anche ritirato allo stesso modo. Ed è ancora peggio ritirare il permesso dopo che c'è stato un po' di rapporto. Perché vuol dire che non sono andate bene le cose, che non ci siamo comportati bene, lo dicevamo prima. Uno dice, vabbè, senza pensarci, ricevo due newsletter e poi dopo mi cancello. Chi se ne importa a quel punto lì. Ma se le cose sono andate bene per un certo momento e poi questo qua sparisce, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, ma probabilmente non ha funzionato da parte nostra. Non siamo stati così solleciti, non siamo stati così capaci di capire dove lui voleva in qualche modo essere portato. Quindi, ogni mattina ci dobbiamo svegliare col pensiero di mantenere tutti quelli che abbiamo già contattato e, se possibile, aumentarli. I piccoli suggerimenti in questo caso sono, in primissima battuta, diamo un'occhiata alla mailing list e a quelle sia di contatto che per le campagne eventuali di sostegno. Quanti di questi contatti ci hanno davvero dato il permesso di essere lì? Probabilmente nessuno può capitare. Tentiamo di porre una pezza, un rimedio e facciamo una bella campagna di permesso. Così, mandiamo una mail, diciamo, va, le nostre policy interne, ci permettiamo di chiederti, sappiamo che ti abbiamo già mandato dei materiali, però probabilmente volevamo solo capire se c'è interesse effettivo. Quindi, ti chiediamo di rispondere, semplicemente un reply che noi registriamo anche con una mail vuota, se ha consenti ad avere inviate le informazioni. Facciamo una prova su tutta la mailing list che abbiamo. Qualcuno risponderà, qualcuno non risponderà, e mettiamo in una casella, magari non la cancelliamo subito, ma mettiamo sicuramente in una casella di stand-by quelli che non ci hanno risposto. Almeno abbiamo qualificato un gruppo su cui cominciare a lavorare. E quei potenziali che stiamo cercando, chi sono i prospect, cominciamo a qualificarli anche solo attraverso il permesso, che è un bel criterio. Dobbiamo contarli e su questi contare a nostra volta. In secondo passaggio, quindi, un piano di avvicinamento a tutti questi contatti. Utilizziamo la nostra creatività, disegniamolo materialmente su un foglio di carta. Facciamo le tappe, disegniamo le tappe, qui facciamo questo, qui facciamo quest'altro, una, due, tre, magari semplifichiamo a tre tappe. Ce lo disegniamo, questa è la nostra strategia, un bel percorso con i passaggi, magari ci mettiamo anche i tempi, ci diamo una stima in un mese, più un altro mese, più un altro mese. Vediamo cosa succede. Cominciamo a disegnare proprio le nostre strategie. E identifichiamo, quindi, la prima base, la seconda e la terza base. Quali sono le cose che dobbiamo fare e con quali risposte ci consideriamo in grado di passare al livello successivo. Schematizziamo al meglio possibile. E ricordiamo di rendere più facile possibile di essere mandati a quel paese. Perché, assolutamente, è un vantaggio straordinario che si conta un po' sulla lunga, sulla media distanza meglio, però è assolutamente un vantaggio. Se abbiamo più tempo, quando abbiamo più tempo, dobbiamo ragionare quindi su come migliorare la qualità della relazione, di chi ci ha dato il permesso, cosa possiamo aggiungere sulle modalità di approccio, cosa possiamo invece togliere, qualche strategia potrebbe essere inefficace. E cosa invece possiamo, appunto, modificare in base a questo? Costruiamo un piano di miglioramento e vediamo di metterlo in pratica. A questo punto, proposte. Qualcuno ha ragionato sulle proposte? Nessuno ha ragionato sulle proposte. Ok, bevo un sorso d'acqua. E vi dico io. Il tema alimentare, vedete che bello, dopo pranzo è molto più facile. La mia nonna dice sempre, ah, lo spezzatine è un gran bel mangiare. E anche nel caso delle proposte, lo spezzatine è un gran bel mangiare. E vi spiego in che senso. Qua siamo nella fase calda della questione, dove progressivamente abbiamo selezionato, boom, boom, bam, la domanda che ci dobbiamo porre adesso è, sì, ok, tutto bene, tutto bello, d'accordo, ma quanto devo chiedere? Che non è quanto mi serve, perché quanto mi serve probabilmente lo sappiamo già, quando abbiamo strutturato il progetto, abbiamo immaginato dei fabbisogni reali e concreti. Ma, tizio, quanto devo chiedere? È una domanda che rischia di bloccare, eh? Come tutte quelle che abbiamo fatto, ma questa ancora di più. Perché alla fine quantificare nella tasca degli altri la proposta di contributo, è complicato, eh? È difficile mettersi così nei panni della gente. Anche perché i rischi sono due. O chiediamo troppo, o chiediamo troppo poco. Non è solo chiediamo troppo, chiediamo troppo poco. Che è un pensiero che blocca ancora di più dell'altro. Perché se qualcuno, metti caso che ci viene in mente, cacchio però, e se poteva darci il doppio? Ma perché non gliel'ho chiesto? Mi sono perso un'occasione strepitosa. La roba lì ti inchioda. Allora la soluzione è, per certi versi, facciamo decidere a loro. Mettiamoli nella condizione più comoda possibile per far decidere loro. Noi gli chiediamo, sì, delle cifre, ma non gli chiediamo una cifra. Non facciamo l'errore di chiedere troppo, troppo poco, ma diamogli un ventaglio di scelte. Diamogli delle opzioni sensate, motivate, logiche, per certi versi, ma facciamo serenamente decidere a loro. Che parlino un po' con la loro coscienza, in qualche modo. E questa cosa, la scelta che opereranno, qualifica, ci serve sempre per qualificare i singoli donatori su quel famoso database. Mettiamo, ovviamente, non deve essere il dato più importante, però è un dato molto importante. Quanto ci hanno dato? Quant'è la loro prima donazione? All'inizio del rapporto ti hanno dato un bacio col frullone che durava 17 minuti, oppure ti ho dato un bacino con la punta del labbro sull'angolo della guancia. E lì capiamo un po' come possiamo muoverci. Il frullone. Quindi, dobbiamo imparare a chiedere la donazione giusta. E non esiste una sola donazione giusta. Dunque, c'è anche qui un problema concettuale alla base. Abbiamo come l'impressione che avere poco da tanti sia la strada più corretta. Cioè, noi non ci allarghiamo, non mettiamo in difficoltà nessuno. 5 euro. 5 euro ce li hanno tutti. A 300 persone. E 300 persone dove le troviamo? O 400, 500. No? Quindi il problema non è rendere... Questo si chiama errore democratico. Cioè, pensare che tutte le persone siano uguali e che tutti possano... Cioè, che tutti con la soglia più bassa accettino. Ed è un errore. Perché significa essere convinti di avere le forze per contattare 300 persone. Ma noi, per contattare 300 persone, vi ricordate che dobbiamo moltiplicare per 4? Sono 1200, eh? Ocio. Quanto ci vuole a contattare 1200 persone? Un casino di tempo. E allora la soluzione è togliersi dalla testa l'idea di poter chiedere poco a tanti. Non è così che si ragiona. Anche perché, se per di più non abbiamo raccolto quei dati, per raccogliere tutti i contatti possibili, non la finiamo più. Ritorniamo agli errori di prima. Invece dobbiamo fare lo spezzatino. Spezzatino. A qualcuno chiederemo 5 euro, a qualcuno chiederemo 50 euro, a qualcuno magari chiederemo 500 euro. Ben convinti, con dati reali e puntuali, che sarà la richiesta corretta per loro, adatta a loro. E ci sono ovviamente, però, tra chiedere, che ne so, 500 euro, faccio perdere una cifra grandissima, e 500.000 euro, ovviamente le strategie di richiesta e di approccio sono differenti, quindi bisogna procedere anche qui molto per gradi. La prima cosa che dobbiamo fare è costruire il nostro spezzatino, cioè il nostro progetto ha un fabbisogno economico, ok? Ma non è il progetto e il fabbisogno economico, ma il nostro progetto si compone di una miriade di aspetti e elementi quantificabili economicamente. Dobbiamo spezzare in tanti pezzettini di fare lo spezzatino del nostro progetto e dire che per fare, che ne so, faccio l'esempio dell'ospedale. L'ospedale non è l'ospedale, l'ospedale è un bancale di mattoni, è una tubatura, è, che ne so, le porte, è i lavori delle fondamenta, è, che ne so, gli alberi del giardino. Insomma, l'ospedale, se tu chiedi alla signora Maria, o meglio, se cerchi di convincere la signora Maria tal dei tali, che coi suoi 20 euro lei costruisce l'ospedale, beh, mi sembra che tu stia facendo un po' un errore di dimensionamento. Anche la persona più buona del mondo si fa una risata e dice ma com'è possibile che i miei 20 euro costruiscano l'ospedale? Quindi, magari la donazione te la danno anche, perché credono un pochino nel vostro progetto, però non è un rapporto che può continuare tanto, se invece la signora Maria dimostri come succede normalissimamente in tutte le comunicazioni che riceviamo a casa, che con 20 euro compri il kit anti-zanzare, parliamo magari di Mei Senza Frontiere, il kit anti-zanzare che ripara dalla malaria tre bambini, quello è molto più comprensibile, più logico, è vero che con il cambio tra l'Italia e il Sudan 20 euro comprano un kit anti-zanzare e i miei 20 euro rappresentano un bene, sono l'equivalente economico di un bene molto importante, ma coerente, realistico, sensato, logico, ok? Quindi, dei nostri progetti facciamone tante piccole parti, alcune parti costano un po' di più, altre parti costano un po' di meno e così ampliamo la possibilità di donazione. A questo punto quindi ampliamo, ripeto, la possibilità di donazione e così diamo a tutti quanti, da quelli che hanno meno possibilità economiche a quelle che ne hanno tanti, a tutti di ritagliarsi e di definire il loro ruolo di protagonista nella nostra storia di sostegno, di aiuto, di beneficio, eccetera. L'opportunità concreta di partecipare perché anche quelli che magari vorrebbero donare di più rischiano di essere fra virgolette umiliati da una richiesta troppo bassa. Dico, ma... va bene, va bene, sì, vabbè, tieni, però poi non ho voglia più di essere trattato fra virgolette così perché purtroppo i ricchi sono anche suscettibili alle volte quindi bisogna andarci con i piedi di piombo. E di contro una persona che magari parte con le migliori intenzioni e però vede una richiesta troppo esosa dice maledizione, ti avrei tanto voluto aiutare però cavoli, come faccio? Hanno chiesto anche a me un sostegno però io gli ho detto sinceramente ragazzi, ora come ora io non ho la garanzia e la sicurezza di potervi garantire per esempio ogni due mesi questa cifra. Mi piacerebbe tanto la vostra causa mi piace da matti ma in questo momento la soluzione per me è un po' complicata la soluzione che mi proponete voi. E allora hanno proposto delle cifre differenti e con le cifre differenti per esempio sulle donazioni cosiddette appunto sui read quelle che si ripetono mensilmente dice vabbè io ti chiedo 30 euro al mese è tanto sì in effetti 30 euro al mese è tanto e se ti chiedessi invece 3 euro la settimana 3 euro la settimana è già meglio 30 euro al mese fa 360 3 euro la settimana fa 52 150 sono 72 ok quindi loro comunque hanno una buona donazione invece di zero hanno la metà di quello che ipoteticamente immaginavano quei 30 euro al mese quindi ci sono anche modalità differenti giochiamo anche sul tempo quando chiediamo un sostegno per esempio possiamo tra gli argomenti utilizzare anche il fattore tempo l'equivalente di un caffè o meglio oltre il fattore tempo anche la rappresentazione fisica del denaro sostienimi con un caffè alla settimana beh cavoli non è tanto però io ho 52 euro da te quando mai una persona magari ci avrebbe dato una donazione di 52 euro così a botta se io gli avessi chiesto mi dai 52 euro eh ma un caffè la settimana rinunci a un caffè per me sì ah boh fatta 52 euro spezzettare spezzettare la richiesta e spezzettare l'equivalente dentro il nostro progetto immaginiamo anche queste cose che ci semplificano la vita e quindi appunto la concretezza ai potenziali sostenitori nel dire che quel denaro lì effettivamente equivale a un bene realistico ok come dicevamo il meccanismo dello spezzatino piccola parentesi che poi vedremo dopo non funziona molto bene nel crowdfunding e poi spiegheremo il perché quindi per il momento immaginatevi il crowdfunding un po' sganciato che ha una logica tutta sua sul tema dello spezzettare il progetto no nel crowdfunding invece l'anticipo invece di spezzettare il progetto dobbiamo presentare il progetto per intero però progetti un po' più piccoli ok giusto per cominciare ad accennare al tema l'annosa questione del quanto chiedo dicevamo prima se è troppo alta rischio di perderli perché vengono scoraggiati se è troppo bassa qualcuno che potrebbe donare di più non lo fa e io rischio di perdere il margine rischio di essere anche fra virgolette offensivo abbiamo detto prima quindi dobbiamo fare dei range un pubblico che conosco poco e che non mi ha mai a qualcuno che conosco poco e che non mi ha mai sostenuto prima quindi come primissima proposta a loro dobbiamo dedicare una prima offerta che è la più bassa tra quelle che abbiamo individuato spezzettando il progetto cioè il minimo comune no la parte più bassa il nostro progetto possiamo quantificare che ne so scuola un quaderno due euro faccio per dire e allora un quaderno quella è l'offerta minima da cui partire e da lì andiamo a costruire le proposte successive qualcosa che vale ben più di un quaderno per una proposta successiva di solito quattro tre quattro proposte sono sensate non tante di più perché poi ci si confonde non tanto di meno perché poi la scelta sembra una falsa scelta però ho quattro proposte di sostegno l'importo ovviamente deve essere crescente ma non progressivo non fate 10 euro 20 euro 30 euro 40 euro fate delle buone distanze tra la prima offerta la seconda terza e la quarta e oltre a essere una distanza economica anche una distanza di valore del bene corrispondente un'ipotesi in un range che va da 10 a 100 euro una è 10 una è 25 una è 50 e l'ultima è 100 c'è differenza tra 10 e 25 è più del doppio tra 25 e 50 è il doppio quindi il margine percentuale è minore però psicologicamente 50 euro è ben diverso da 25 euro tra 50 e 100 euro è proprio una soglia psicologica e anche tutti qualifichi come uno che ha offerte da 10 a 100 euro che corrispondono tutto sommato a una platea molto ampia di potenziali quindi c'è una differenza sostanziale nel fare nell'accettare una richiesta piuttosto che un'altra e anche di ricaduta conseguente cioè il beneficio che tu donatore porti dando 100 euro è ben diverso spiace dirlo ma è così al beneficio che tu porti dando 10 euro ok una zanzariera per un bambino un kit di vaccinazione per 80 bambini di un villaggio proporzioni devono avere comunque un valore questo se non conosciamo i nostri potenziali sostenitori se invece noi li conosciamo quindi abbiamo già sostenitori attivi la risposta alla domanda quanto chiedo ce l'abbiamo nei nostri dati che anche qui tornano grandemente utili e che dobbiamo avere raccolto cioè noi individuiamo le fasce di sostegno se i nostri sostenitori non ci hanno mai dato più di x probabilmente non è il caso di chiedere più di x se nei nostri sostenitori individuiamo un 70% che ci hanno sempre sostenuto tra i 10 e i 30 euro un 20% che ci hanno sostenuto tra i 30 e i 60 e un 10% che ci hanno sostenuto tra i 60 e i 100 euro ecco che le fasce di richiesta le abbiamo già belle che rappresentate prendiamo il valore medio di ciascuna e andiamo a costruire la nostra proposta individuiamo nel nostro progetto il corrispondente valore del bene a quelle cifre e quindi rappresentiamo la nostra proposta di sostegno ce lo dicono loro studiando i dati da un lato quindi si evita di spaventare chi può fare piccole donazioni e dall'altro lato si evita o meglio ci si permette di stimolare meglio l'impegno di chi è già fedele alla causa cioè non va bene una proposta sola in un range ampio tra i 50 e i 100 euro soprattutto se c'è chi ci sostiene per molto di più e sarebbe deprimente a questo punto quindi calcolando i dati verificando i dati noi identifichiamo le fasce e quanto ci possiamo spingere nel chiedere e purtroppo appunto spiace dirlo però bisogna fare esercizio su questa cosa qua dobbiamo avere un po' di dati un po' di esperienza fatta solo la preparazione ci può dare una risposta tema assolutamente fondamentale della progressione che riprende gli step è prendi rinnova aumenta prendi il dono rinnova il dono aumenta il dono questa è la logica che ci deve indicare la via dobbiamo prendere chi non ci ha mai sostenuto prima quindi agganciare nuovi dobbiamo chiedere e cercare il rinnovo a chi ci ha già sostenuto non dimentichiamo che chi ci ha già sostenuto è anzi forse la parte più polposa dobbiamo chiedergli di rinnovare e dopo due o tre rinnovi quindi abbiamo capito che ci stanno appresso dobbiamo chiedergli di aumentare cioè ci aiuti da quattro anni ci hai sempre dato la tua offerta generosa con la quale abbiamo fatto tante cose insieme è stato fondamentale per noi ci prendiamo il coraggio per le mani e ti chiediamo di darci ancora di più un aiuto e abbiamo il coraggio per farlo abbiamo la sicurezza che probabilmente la risposta andrà a buon fine perché è perché i dati ce lo raccontano chiaro non dobbiamo sparargli cinque volte quello che ci ha dato fino adesso dobbiamo fare una proposta coerente e in linea con una progressione un aumento non c'è scritto raddoppia per esempio aumenta e cosa possiamo dire ancora che tutto questo ci aiuta anche a mantenere viva la prospettiva temporale cioè di mantenere i nostri progetti vivi nel tempo più lavoriamo su nuovi insieme in parallelo nuovi rinnovi e aumenti più diamo vita ai progetti che abbiamo in animo di fare più gli garantiamo una continuità di flusso di sostegno economico più possiamo pianificare le nuove strategie l'incremento dei progetti facciamo un solo laboratorio per una classe alla settimana abbiamo più soldi possiamo fare due laboratori per due classi alla settimana quindi possiamo lavorare di più offrire più servizio essere più efficienti e efficaci sul bisogno che abbiamo identificato e in questo senso avremo tra l'altro mantenendo questo rapporto sul chiedere di rinnovare e aumentare avremo sempre più coinvolgimento nella causa da parte dei nostri sostenitori perché anche chiedere del denaro ma non solo del denaro chiedere comunque un sostegno fa parte di quella strategia di coinvolgimento che dobbiamo attuare noi non dobbiamo considerare i nostri potenziali donatori o anche i donatori effettivi come dei bancomat lo abbiamo detto cento volte mi va di ripeterlo non sono solo dei portatori sani di denaro sono dei potenziali delle potenziali energie per la nostra causa possono diventare volontari possono portarci degli amici possono avere delle idee che possiamo sfruttare possono entrare nel direttivo possono fare gli ambasciatori insomma davvero sono tantissime cose non sono solo il quantitativo di denaro che riusciamo a estorcergli a farci dare nel corso del processo non è questo c'è il coinvolgimento alla base di tutto ed è il nostro tesoro però a questo punto l'annoso tema del grazie voi avete presente la scenetta di Boris della festa del grazie quella con tantissime quaglie se non ce l'avete presente andatela a vedere che è una scena straordinaria noi a questo punto dobbiamo imparare quotidianamente in tutti i contesti a dire grazie perché fa parte della ricompensa fisica no morale del dono dobbiamo ringraziare tantissimo dobbiamo imparare a farlo come metodo di vita dobbiamo ringraziare per tutte le cose che fanno i sostenitori per noi perché è quello che in qualche modo loro vogliono sentirsi dire loro mettono mani al portafoglio in fondo per sentirsi dire grazie ed è un grazie vero è un grazie sincero non è un pro forma perché davvero senza il loro sostegno noi le cose non riusciamo a farle e dobbiamo ringraziarli dobbiamo ringraziarli dicendogli grazie ogni volta che loro ci fanno fanno qualcosa in linea con la nostra richiesta eccetera ma dobbiamo anche trovare dei metodi di ricompensa di ringraziamento anche materiali ovviamente il grazie va commisurato a quanto ci hanno donato è ovvio perché la ricompensa deve essere in qualche misura parametrata dobbiamo trovare la combinazione più adatta alla loro capacità di dono e alla loro vicinanza col progetto e in cambio del sostegno dare un riconoscimento materiale sempre più rilevante alcuni esempi questa è una cosa che funziona molto bene nel crowdfunding no? e ne parleremo più nel dettaglio dopo il meccanismo della donazione deve essere agganciato a un meccanismo di ricompensa corrispondente e lo si deve esplicitare ok? faccio per esempio l'esempio del gruppo che fa il disco e chiede alla piattaforma i crowdfunding kickstarter o quella che volete voi Apple non so chiede il sostegno per la produzione del disco benefit possibili per il donatore 10 euro citiamo il tuo nome nel libretto per 25 euro lo evidenziamo in rosso per 50 euro registreremo un unico assolutamente unico inimitabile video di ringraziamento di 20 secondi che ti spediamo per 250 euro ti mandiamo una copia autografata del disco e il booklet super originale tiratura limitata foto speciali di me che faccio la doccia per 500 euro ti apriamo il backstage in occasione del primo concerto live che facciamo per 1000 euro facciamo noi band una festa a casa tua la data che vuoi veniamo a suonarti tutta la sera e per 2500 euro sali con noi sul palco a suonare un pezzo bomba lì bomba assoluta quindi questo solo per dirvi che c'è possibilità di trovare delle ricompense valide significative per il nostro donatore molto coerenti con il progetto con la causa che devono però essere progressive e parametrate alla sua donazione insomma e se ci sono 10 persone che danno 2500 e ora facciamo un combo della madonna con 350 persone sul palco tutti insieme appassionatamente è una roba fantastica non si è mai vista lì facciamo un video e per produrre il video abbiamo una seconda campagna di crowdfunding per produrre il video ed è una ruota che riparte all'infinito quindi l'idea di fondo per ideare una qualsiasi ricompensa è rendere il donatore il sostenitore protagonista della storia che stiamo costruendo attraverso il progetto cioè immaginare di farlo entrare dalla porta principale come protagonista ripeto eroe di questa vicenda non l'eroe che salva solamente ma l'eroe che riesce a essere gratificato facendo qualcosa ottenendo qualcosa ottenendo la ricompensa fisica e morale per il suo aiuto e in questo senso vi invito a riflettere sul tema stare bene non è sufficiente per il nostro sostenitore nel crowdfunding in particolare ma anche in altri ambiti dobbiamo trovare qualcosa di materiale perché stare bene è una bellissima sensazione ma non è così lunga nel tempo invece un oggetto una ricompensa fisica materiale dura nel tempo perché ciò che tra l'altro i sostenitori vogliono essere ricordati per il loro sostegno più è alta la donazione più questo deve essere tenuto in considerazione pensate per esempio a tutti i sostegni per esempio anche gli ospedali banalmente alle targhe con il nome del finanziatore o all'intitolazione delle sale a persone che hanno sostenuto non solo a persone morte che danno prestigio ma a persone che hanno sostenuto l'ospedale di Biella quello vecchio aveva interi padiglioni a nome di famiglie che li hanno costruiti all'inizio del novecento quindi insomma ricompense che fanno memoria che durano tanto nel tempo il concerto insieme sul palco è una roba che uno non si scorda più per esempio questo sul tema del crowdfunding se stiamo facendo fundraising diciamo così personal fundraising quindi abbiamo la possibilità di spezzettare il nostro progetto in tante piccole parti di valore corrispondente lì possiamo rimanere un po' di più sul tema dell'immateriale possiamo ringraziare una lettera una lettera scritta a mano dal presidente una telefonata di ringraziamento cose progressive l'invito a partecipare poi dopo ho preparato delle slide su come alcuni suggerimenti su come trattare il donatore come ringraziarlo ed è tutto graduale a seconda del suo sostegno non brucio gli esempi adesso li guarderemo non so se riusciamo già oggi pomeriggio sicuramente domani dobbiamo sostanzialmente organizzare qualcosa per lasciare un segno nella motivazione nella gratificazione nel senso di appartenenza del donatore io avevo suggerito per esempio di fare le fotografie ai donatori se abbiamo un circolo facciamogli delle fotografie li mettiamo sempre con noi sempre presenti il wall of fame di tutte le persone che ci hanno dato una mano di tutti i soci la foto la faccina del socio nella nostra sede cavoli questo è bellino facciamoli stare con noi rendiamoli presenti in qualche modo in tutte le cose che facciamo ci ricordiamo di loro e loro sono contenti se vedono la loro foto probabilmente perché se credono nella nostra iniziativa vogliono in qualche modo essere ricordati quindi alcuni suggerimenti a questo punto immediatamente controlliamo cosa stiamo chiedendo e quanto stiamo chiedendo contiamo quante proposte sono complessivamente noi chiediamo sempre la stessa cifra o abbiamo già suddiviso un pochino i range di richiesta c'è quantità differente oppure siamo fermi e questa è la prima cosa che dobbiamo pensare se probabilmente la nostra richiesta o non è stata manco mai calcolata dacci quello che puoi non va bene perché squalifica il sostegno o abbiamo pensato a una cifra sempre uguale neanche questo va bene cominciamo a lavorare sulla differenziazione spacchiamo in mille pezzi il progetto facciamo lo spezzatino prepariamo il piano di proposte differenziate e ricordiamoci che c'è differenza tra gli importi da preparare per chi deve essere ancora coinvolto e per chi invece è già stato coinvolto quindi range diversi lettera diversa cifre diverse sostanzialmente se abbiamo ancora più tempo studiamo i dati degli ultimi tre anni e valutiamo con sincerità se le proposte che abbiamo fatto ai nostri sostenitori hanno fatto incrementare la quantità di donazioni nel senso della cifra la quantità economica insomma il coefficiente economico oppure se abbiamo perso delle opportunità se a uno che per quattro anni ci ha sempre dato cento euro noi non abbiamo mai chiesto più di cento euro probabilmente abbiamo fatto un errore abbiamo perso un'occasione per avere qualcosa in più per chiederglielo possiamo recuperare ok se invece abbiamo fatto un tentativo di upgrade e dopo tre anni che questo ci dava 15 euro gli abbiamo chiesti 50 e sto qua ci ha risposto picche errore dall'altro lato abbiamo esagerato dovevamo lavorare meglio cosa abbiamo fatto per chiedergli 50 in cosa ci siamo sentiti autorizzati a chiedergli 50 lo abbiamo davvero coinvolto a dovere gli abbiamo davvero fatto sentire la vicinanza dell'associazione o del o del progetto lo abbiamo fatto l'abbiamo gratificato a sufficienza quindi gli potevamo chiedere l'upgrade oppure no ci ha mollato per colpa nostra o perché è diventato povero tutto un colpo o tirchio no non lo so probabilmente qualcosa da sistemare c'è anche dal nostro punto di vista quindi domandiamoci se abbiamo chiesto troppo se abbiamo chiesto troppo poco quanto avremmo potuto chiedere per cosa e alla luce di queste considerazioni facciamo un piano di raccolta dedicato a ciascuna delle fasce di donazione che ci sono nel nostro database se abbiamo raccolto bene i dati però ci vogliono delle serie storiche di almeno tre anni per vedere un po' l'andamento della raccolta quindi se siamo all'inizio no però cominciamo a pensare a una logica in cui prima o poi tra tutte le nostre donazioni si differenzieranno dei range di donazione viene fuori naturale c'è chi ci sostiene di più e c'è chi ci sostiene di meno attuiamo inventiamo una strategia dedicata a ciascuna di queste tre fasce di solito Ox going on praticità qualcuno ha pensato a praticità? è il vostro momento? ok microfono allora ok eh sì noi abbiamo insomma riflettuto su questo termine su praticità proprio per cioè la domanda che ci è venuta in mente è se è un se il fundraising può in che maniera in che maniera diciamo praticamente può incentivare può garantire la buona riuscita insomma di un progetto cioè è questo l'unica cosa che ci è venuta in mente diciamo non lo ha avuto lo volevo ok praticità inteso come cioè come riuscita proprio pratica sì come quanto il fundraising può farmi fare il progetto può garantire praticamente sì è diciamo nel senso rispondo volentieri alla tua domanda il tema della praticità va in un'altra direzione adesso vediamo insieme la tua domanda è ovviamente pertinente ma la risposta dipende come lo fai come tante cose e già comincio ad accennare alla risposta delle risposte ma non voglio andare oltre perché se no domani non vedete se vi do già la risposta delle risposte adesso domani non ha senso più niente no? ok abbiamo toppato no insomma ho messo voi no ho messo ho messo una parola che poteva avere 500 letture possibili di conseguenza ci mancherebbe spengo questo microfono se no mi si scarica la battery forse forse no no vabbè no non ci sono capace no il tema della praticità è siamo sempre nell'ambito dei ragionamenti adesso su come consideriamo i nostri donatori il nostro bene supremo insomma e la praticità è tutta rivolta a loro la domanda di fondo è stiamo rendendo facile la vita al donatore oppure no questa è una grande sfida perché noi dobbiamo permettergli la massima comodità proprio la massima comodità non perché il nostro rapporto con lui sia labile quanto perché la praticità premia e più siamo comodi più siamo agevoli in qualche modo più saremo premiati nel mantenimento del rapporto nell'incremento del rapporto per una volta nella vita scegliamo la via breve lo so che a noi piace complicarci la vita perché riteniamo che siamo capaci di fare le cose complicate la complessità è un grande pregio dobbiamo affrontare la complessità esserne protagonisti consapevoli in tutto e per tutto ma per una volta scegliamo la via breve cioè rendiamo davvero facile 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 la vita ai nostri sostenitori dobbiamo fare non so come dire dobbiamo toglierci per un attimo dalla testa come al solito anche come al solito l'abbiamo già visto di essere troppo concentrati su noi stessi dobbiamo evitare di essere autocentrati ovvero i progetti le campagne di raccolta fondi devono essere non devono essere costruite a uso e consumo di noi che le abbiamo progettate noi dobbiamo uscire da noi guardarci da fuori e dire ma non l'uomo della strada ma il senso comune qualcosa di molto più semplice perché capire come funzionano le persone è difficilissimo però il senso comune la via più semplice quale sarebbe invece e invece costruiamo delle campagne articolatissime in step contro step super dettagliate ma anche tecnicamente difficili da realizzare per ottenere la donazione no usciamo da noi stessi l'atto di donare nella vita del potenziale donatore non deve diventare un percorso ostacoli uno non deve diventare una sfida alla perseveranza nel senso che loro vorrebbero donare ma non riescono e quindi devono fare 550 sollecitazioni eccetera e non deve diventare una vita una fatica dopo l'altra un esempio pratico donazioni online non so se vi è mai capitato di donare online adesso si sta un pochino migliorando però una volta non troppo tempo fa istituzioni culturali molto blasonate in giro per l'italia avevano il loro bel bottone sostienici allora tu schiacciavi il bottone sostienici e arrivavi in un'altra pagina dove c'era un altro bottone sostienici tutta una presentazione dei progetti che facevano e ancora la donazione materialmente non potevi farla dovevi schiacciare un'altra volta sostienici però non lo trovavi nello stesso punto lo trovavi in un altro punto della pagina quindi dovevi cercarlo schiacciavi sostienici arrivavi alla terza pagina che era la landing page probabilmente del sistema e dove mi è capitato c'erano dei bei moduli che tu dovevi scaricare in pdf stamparti compilare a mano e spedire via posta con i tuoi dati bancari per poterli sostenere no nessuno farebbe una cosa così eppure funzionavano in questo modo le donazioni online che non erano online dal meccanismo di dona ora si passava al meccanismo di dona in un'ora cioè ci voleva un'ora di tempo materialmente per poter dare i denari no bisogna rendergli la vita facile online immediato bottone dona ora subito col bottoncino paypal schiacci arrivi alla pagina di paypal metti la tua cifra metti il tuo IBAN carta di credito e hai donato in due semplici passaggi tempo d'orologio 35 secondi se sei bravo a scrivere 45 se sei lento 50 se hai una mano sola quindi insomma rendere facile la vita ai donatori che vogliono donare vogliono donare cioè cavoli non è che glielo hai quasi neanche chiesto in quel caso lì online sono lì c'hai il bottone dona ora immediato ma allo stesso modo rendere facile la vita al donatore anche se sei offline per esempio i donatori ma poi vabbè comincio ecco continuo sul non autocentrarsi poi torno sul quanto devo donare non autocentrarsi mai cioè noi diciamo noi conosciamo i nostri donatori ah loro piace donare così ah no no loro sono abituati così che vengono in sede quando è aperta una volta alla settimana per due ore prima di cena e vengono a fare il rinnovo della tessera qui no 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 hanno sempre fatto così li conosciamo non è vero non è vero gliel'hai mai chiesto se davvero il modo più comodo è quello e se invece volessero mandato per posta elettronica l'iban e ti fanno il bonifico e se invece vorrebbero sostenerti facendo un bollettino postale e magari se gli fosse più comodo fare il read in cui loro non fanno neanche l'operazione ma automaticamente gli prelievi dal conto corrente la cifra che loro ti vogliono dare non devi pensare solo a te stesso né tantomeno che le abitudini nel passato siano sempre valide così come la mission va modificata anche i meccanismi di raccolta dalla tessera del sostenitore fino a donazioni più specifiche devono essere aggiornate e rendere le rese le più agevoli possibili quindi una delle prime cose da fare è mettersi nelle condizioni di poter ricevere donazioni in tutti i modi un account paypal lo si fa in due minuti non ci vuole niente un conto corrente dedicato della situazione si fa in altrettanto poco soprattutto ci sono istituti bancari che non hanno commissioni proprio perché sei non profit quindi insomma ci sono tante agevolazioni usiamole il bollettino postale informiamoci e capiamo il meccanismo e magari non so teniamo la sede un po' più aperta per permettere anche a chi non vuole uscire la sera diamoci un pochino di tempo diamo delle altre opzioni incrementiamo le possibilità di portare fisicamente i soldi in sede insomma apriamoci il più possibile questo per quanto riguarda l'autocentratura i sostenitori appunto sono molto esigenti e hanno a cuore la comodità e tu gli hai reso la vita dannatamente difficile senza quasi rendertene conto ed è un doppio errore uno li hai trattati male due non ne sei consapevole che è un errore doppio se prima abbiamo visto quanto devo chiedere adesso che siamo nella parte di logica del donatore la domanda invece quanto devo donare perché anche il donatore si pone la domanda non ha mica idee chiarissime vuole sostenere la tua idea vuole sostenere la tua mission si fida di te sa che fai delle buone cose però non è che ha chiarissimissimo quanti soldi ti servono glielo devi dire e fa parte della praticità renderlo informato il più possibile non solo su quello che fai farai vuoi fare e quale competenze hai ma anche di quanto hai bisogno perché la richiesta che vedevamo prima aiutaci come puoi al tuo buon cuore non serve a niente bisogna mettere lì cifre chiare definite e agganciate a beni materiali che lui può comprendere c'è una persona disponibile ok che è già orientata che vuole donarti qualcosa e tu devi garantirgli la possibilità di individuare parti di progetto che possono essere per lui le più motivanti e le più significative non puoi chiedergli magari ne hai anche bisogno però non puoi chiedergli non so delle robe di poco valore ok qualifica la richiesta poi è ovvio che nella massa del denaro io adesso questa cosa la dico però non credo di destare scandalo non è che il mio euro che esce dalla mia tasca appena esce dalla mia tasca compra quel vaccino che andrà a quel bambino probabilmente quei vaccini per quei bambini sono già stati comprati ok e stanno già anche funzionando non è che aspettavano il mio euro per comprare il vaccino non è che ci deve essere una conseguenza di tempo tra la mia donazione e il fatto che quel bambino venga vaccinato probabilmente la campagna dei vaccini prosegue ne hanno comprati una grande quantità e li stanno utilizzando ma il mio denaro va nell'equivalente di quel vaccino per la campagna dei vaccini ma ripeto non aspettano me per comprare quelle cose il fabbisogno è anche un fabbisogno su un piano un po' più ampio bisogna quindi rispondere positivamente alle domande stiamo dando a lui la possibilità di individuare come dicevo prima parti di progetto che possono essere motivanti e significative e a cui lui donerebbe più volentieri rispetto ad altre parti quindi lo conosciamo abbastanza bene per chiedergli proprio la cosa adatta a lui a una mamma con tre figli probabilmente chiederemo un tipo di bene equivalente diverso la dico banalissima di un quarantenne single perché probabilmente ha dei valori differenti ma il nostro progetto comprende entrambi i valori e riusciamo a identificare la richiesta adatta stiamo rendendo chiaro al donatore che può fare la differenza sia con una grande che con una piccola donazione non pensiamo che i piccoli donatori siano inutili non pensiamo che i grandi donatori siano gli unici a cui puntare dobbiamo mantenere comunque ben chiaro che tutto il sostegno ha peso certo obiettivamente un peso diverso ma un peso c'è stiamo rendendo quindi alla fine la vita facile al donatore il mantra in questo caso da ripetere quasi fino alla noia è essere espliciti e bene chiariamo le cose diamo le cifre diamo i conti diamo trasparenza a tutti i nostri processi diciamo quello che tutti anche noi anzi anche noi noi nei panni del donatore vorrebbero sapere vogliono sapere quanto costa x e a che cosa serve x visto che x fa bene in questo questo e quest'altro modo qual è il beneficio che porta a questo bene quanto costa e quindi la richiesta è conseguente chiariamo esplicitiamo il più possibile diamo informazioni questo non vuol dire che gli dobbiamo dare il bilancio perché la legge della leggerezza ci dice che anche le informazioni si possono dare in un modo molto semplice e molto lineare quindi essere non essere avari essere espliciti nelle informazioni l'ultimo punto legato alla praticità è gli strumenti della praticità tecnologic citazione di e qui ti volevo molto bene un gianduiotto per te grazie Daft Punk ricordatevi a maggio esce il disco nuovo allora tecnologic nel senso che siamo davvero in grado di rendere la vita facile anche grazie a strumenti che grazie al cielo esistono ma rendere la vita facile fuori e dentro faccio alcuni esempi noi che abbiamo a cuore la realizzazione del progetto che siamo coinvolti anche nella parte di raccolta fondi prendiamoci la responsabilità e l'orgoglio perché secondo me è anche un tratto di orgoglio di rendere la vita più facile anche a chi lavora insieme a noi usciamo di qui e nella nostra organizzazione entriamo come John Belushi diciamo abbiamo visto la luce ci ha illuminato abbiamo sentito uno che blaterava di cose strane ma ci ha dato la luce e adesso facciamo tutto più facile nella nostra organizzazione se già non lo stiamo facendo l'orientamento che vi do è quello di informatizzare tutto quello che potete ma già lo sapete perché essendo più giovani di me siete più nativi rispetto alle tecnologie di me però giusto per basta passarsi cento volte lo stesso file con le correzioni un bel dropbox comune lo stesso file è sempre lì le correzioni vanno avanti e c'è sempre la versione più aggiornata senza dover cambiare il nome e mettere la data ok ne basta uno per tutti alla grande dropbox due secondi e si fa otto file di excel tutti con formati diversi perché ciascuno raccoglie le informazioni in modo per i fatti suoi a casa sua col suo criterio e poi quando bisogna incrociare i dati non ci si capisce più niente no ci sono delle piattaforme anche online gratuite dove super giù con la stessa logica c'è l'unico database dedicato alle donazioni al fundraising utilizziamo quelle oppure con la stessa logica di dropbox anche il file di excel va a finire lì dentro così la versione è aggiornata e unica ovviamente dobbiamo fare riunioni incontri non esiste proprio che saltiamo sempre in macchina delle belle connessioni c'è skype c'è google hangout c'è anche facebook la chat insomma usiamo centomila tecnologie diverse che ci permettono di risparmiare tempo e di essere tutti insieme contemporaneamente a ragionare non è che oh cacchio io però domani non riesco a venire in riunione in associazione perché ho da preparare l'esame tal dei tali ok stai a casa tua invece di fare la pausa caffè quando vuoi tu la fai all'ora in cui facciamo la riunione dieci minuti via skype ci confrontiamo noi facciamo l'assemblea ci mettiamo col tuo bel computer lì e prendiamo sta decisione perché se no non ne usciamo vivi se dobbiamo tenere conto degli impegni di tutti questo progetto non andrà mai avanti no? e andare o invitare qualcuno che ha la firma ogni due o tre giorni in banca per sapere l'estratto conto se è arrivato il contributo bim bim zero assolutamente si fa un bel conto online on banking e controlliamo tutto lo facciamo nella nostra quotidianità facciamolo anche per l'organizzazione sappiamo già come si usano ste robe no? quindi rendere la vita più facile fuori ma renderla anche dentro perché praticità è un altro faro perché il tempo è poco ne abbiamo pochissimo quindi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio quello che abbiamo allora c'è mydonor mydonor che ha una versione beta per le piccole organizzazioni che è gestibile se ricordo bene mydonor funziona online cioè tu non hai il file hai un account ed è tutto lì ci sono le versioni più evolute che costano una sorta di affitto mensile sono delle cifre abbastanza cioè sono delle cifre potabili però insomma c'è modo anche di dispendere meno ecco poi ce n'è un altro che adesso non ricordo però me lo devo far venire in mente e ve lo dico tre o quattro ne hanno inventati prodotti italiani intendo dire in italiano organizzati e customizzati sulle onlus italiane quindi gruppi di lavoro fatti da gente che ci lavora quotidianamente non solo da informatici che magari non conoscono bene il settore ma gente che proprio ha messo i suoi bisogni tecnologici di dentro quindi giusto per riassumere da fare subito mente locale per rispondere alla domanda sto rendendo la vita facile a chi mi segue le risposte per niente poco abbastanza mi pare che ci siamo non vanno bene va solo bene la risposta molto sto rendendo la vita facile molto ok tutto il resto rivedere abbiamo un po' più di tempo una settimana allora quali sono i sistemi di versamento che abbiamo già attivato cosa mi manca analizziamo gli eventuali costi per aprirli e andiamo con fiducia apriamo le possibilità di far arrivare i denari alla nostra organizzazione se abbiamo un po' più di tempo costruiamoci l'ufficio ideale a costo zero per me e per il mio staff ci sono strumenti informatici dobbiamo capire cosa ci serve cosa non ci serve nella valutazione io vi invito anche che giustamente visto che non siamo tutti Hawkins insomma anche il tempo necessario per imparare l'uso di un software dobbiamo metterlo in conto cioè non è che ci buttiamo a lei sulla tecnologia se poi ci mettiamo tre mesi e mezzo per cercare di capire com'è l'interfaccia valutiamolo un attimo se sono più o meno intuitivi vuol dire che fa bene per noi se i processi funzionano bene con quello che stiamo facendo manteniamolo non è che dobbiamo per forza cambiare la modernità non è obbligatoriamente un valore positivo però se c'è qualcosa che funziona male vediamo se la tecnologia ci può aiutare ok siamo quasi arrivati alla fine facciamo una tirata sì sì ma ce la facciamo le quattro e mezza chiudiamo ci sono ancora due punti uno è prova dei fatti qualcuno ha fatto qualche riflessione sì? microphone ah benissimo non so prova? sì ok l'abbiamo considerata come una sorta di tecnica di valutazione in itinere quindi noi abbiamo in mente un progetto creare una scuola in Africa no? ambizioso è nuovo tra l'altro nuovissimo mi piace perché è nuovo quindi in pratica questa prova deve avvenire sia prima della realizzazione del progetto che dopo prima perché comunque rivolgendoci ai nostri donatori dobbiamo far capire che questo progetto è nuovo è diverso quindi la nostra scuola è più bella perché è diversa dalle altre quindi capire il perché quindi provare il motivo in seguito alla realizzazione del progetto dobbiamo appunto provare quindi capire qual è stato il riscontro del nostro progetto l'abbiamo considerata in questa maniera era una sorta di analisi del fabbisogno un'analisi un'analisi del fabbisogno del territorio e quindi dico serve realizzare questo e ti do la prova perché ho fatto una ricerca e questa è la prova che questa cosa serve è utile può portare un miglioramento per noi per te per tutti e anche dopo ok anche voi avete ragionato sulla prova dei fatti allora sì tutto pertinente assolutamente corretto la prima fase banalmente diciamo così è l'analisi di scenario che deve anticipare un pochino tutti i progetti per l'emersione del bisogno per la rappresentazione del bisogno tutti quei lavori di indagine di analisi vanno a confluire per quanto riguarda appunto il fundraising nel documento di buona causa nel senso che abbiamo evidenziato per questi motivi il bisogno effettivo del nostro territorio dell'altro territorio e vi diamo tutti i dati vi spieghiamo come abbiamo fatto l'analisi e quindi come dire la nostra iniziativa è fondata non è un'alzata di ingegno perché un mattino mi è venuta un'idea ok tutto giusto tutto corretto ha a che fare anche con la mission perché quella analisi va a rispondere a dei bisogni che già noi nella nostra mission avevamo individuato anche se in termini filosofici lì invece sono termini più incarnati reali perché siamo usciti per strada abbiamo fatto la nostra analisi di scenario che non è ancora uno studio di fattibilità nel senso che è affine allo studio di fattibilità ma lo studio di fattibilità ci mette dentro anche tanta parte di e fa bisogno economico qua invece siamo sull'emersione del bisogno reale sulle assenze insomma dati critici che possono essere l'abbandono scolastico la disoccupazione insomma fattori sociali principalmente sono bisogni di origine sociale e con questo non ci metto solo le persone perché un bisogno sociale per esempio è il randagismo è un problema per venire anche incontro alle cose di cui ti occupi nel senso non è che dobbiamo solo fare le madre Teresa di Calcutta insomma però il punto sulla prova dei fatti a questo punto stamattina non potevamo saperlo però a questo punto a me interessa parlare delle cose fatte non delle cose ancora da fare quindi il secondo aspetto che avete evidenziato voi i risultati che è il punto più oscuro di tutti laddove si avvitano si instaurano i peggiori pregiudizi possibili che rischiano di minare nelle fondamenta l'avvio di qualunque attività perché perché lo accennavamo un pochino stamattina la prima domanda che una persona qualunque a cui viene chiesta una donazione vi farà è ma i miei soldi dove vanno a finire cosa ne fate dei miei soldi di tutte le persone che vi faranno questa domanda su per giù il 70% ci sono delle stime di questo 70% solo il 10% farà una seconda domanda perché a loro interessa alla gente purtroppo interessa cosa ne fai dei miei soldi quello è il punto di interesse di un 70% il 10 solamente ha un interesse ulteriore e quindi vi farà una seconda domanda e la seconda domanda è ma serve? prima dove vanno a finire? una volta che gli hai detto dove vanno a finire molti sono contenti e aderiscono o non aderiscono ma solo il 10% sono interessati a ciò a cui veramente siamo interessati tutti noi cioè serve davvero il tuo intervento risponde davvero a un bisogno noi ci siamo sbattuti per n mesi a identificare un bisogno studiare la strategia corretta per rispondere fare qualcosa che prima non c'era adesso c'è e interessa una fetta grossa così della popolazione alla gran parte della popolazione interessa solo ma come spendi i miei soldi non se servono o non servono come li spendi questo è un drammatico problema attuale attualissimo che continua a essere da più parti sollevato perché ogni tanto purtroppo la comunicazione mainstream ma non solo fa più male che bene nel senso che ci sono articoli di giornale inchieste cose varie il problema è che per una onlus che fa la furba e che non è trasparente e che fa male il suo lavoro se esce in televisione una roba di queste tutto il resto va a essere danneggiato e si perde fiducia si perde fiducia nell'intero sistema e la gente non ha voglia di andare a capire se tu sei diverso siete tutti uguali vi siete inventati l'idea della onlus perché per non pagare le tasche le social le motivazioni più assurde quindi il discorso è che c'è un consumo critico nel mondo profit oramai fortunatamente questa cosa ha preso molto piede noi diamo valore a un'azienda che si comporta in un certo modo piuttosto che un'azienda che non lo fa ok ci proviamo almeno consumo critico dal punto di vista ambientale se ci interessano i temi ambientali sulla qualità del lavoro se ci interessano i temi del lavoro sullo sfruttamento della terra insomma ci sono tanti temi sul consumo critico ma anche la donazione comincia a essere critica cioè la gente non dona più perché perché bisogna fare del bene beneficenza questo è un discorso antico adesso anche il donatore esprime un orientamento critico verso le onlus e quindi siamo ancora di più sotto la lente di ingrandimento dobbiamo stare molto attenti a come ci comportiamo perché il consumatore non è più informato puramente ma ha più voglia di essere in qualche modo informato se vogliamo è un po' più diffidente però la diffidenza non è solamente negativa dal mio punto di vista è uno sprone a essere più efficienti bravi e trasparenti ok se tutti fossero dei boccaloni gli potresti davvero ti verrebbe la tendenza di fregarli purtroppo è umano l'occasione fa l'uomo ladro e purtroppo noi possiamo essere non tutti sono super integri io non ho in questo senso purtroppo esprimo un giudizio mi scuserete non ho tutta questa straordinaria fiducia del genere umano puro così preso come categoria però di volta in volta viene la tendenza a fregare purtroppo il prossimo poi c'è chi riesce a moderare questi istinti ed è bene che sia così quindi la questione è alcuni donatori se lo chiedono sempre di più dove vanno a finire le mie donazioni o lo fanno più spesso e altri donatori invece non se lo chiedono per niente continua a esserci tutto sommato la distinzione i pregiudizi culturali sono sono un problema per noi perché dobbiamo superarli con la prassi con il nostro quotidiano lavorare e con la prova dei fatti cercare di dimostrare gli effetti e risultati che abbiamo ottenuto anche qui vi faccio un esempio come si possono per vedere anche il livello di pregiudizio che purtroppo in tutti noi esiste dunque noi siamo di fronte per esempio a due centri di accoglienza centro accoglienza che opera per persone senza fissa dimora a Monopoli me lo sono immaginato ok sono entrambi gestiti da associazioni che hanno un'ottima reputazione quindi partono davvero con ottime ottime carte hanno la mission molto simile hanno una storia simile eccetera e tutte e due stanno cercando il sostegno verso privati cittadini imprese o altri enti di erogazione quindi condizioni di partenza analoghe e molto positive la mission è importante si danno un grande affare eccetera il centro A tiene aperto solo grazie ai volontari il centro B invece impiega operatori stipendiati il centro A impiega tutte le donazioni che riceve per coprire le spese generali necessarie un'accoglienza confortevole e per i pasti degli ospiti il centro B ogni mese con le donazioni paga oltre a quelle robe lì anche lo stipendio degli operatori che ha a part time perché lui ha operatori stipendiati il centro A in questo modo visto che copre le spese solamente dell'accoglienza e dei pasti riesce a servire più persone senza dimora dell'altro ma per un numero inferiore di ore anche perché la disponibilità dei volontari non è sempre confermata il volontario può certe volte quindi o più gente ma per meno ore il centro B riesce a tenere aperto anche di notte ospitando in contemporanea però meno persone ma le segue meglio perché dà più continuità al servizio e gli fa anche dell'accompagnamento sociale perché invece di avere solo volontari a del personale più qualificato alla fine del mese però il centro A avanza una somma delle donazioni riesce a fare delle economie che reinveste il mese successivo il centro B pagando gli operatori stipendiati finisce i soldi a fine mese ora la domanda che giro a voi chi è che lavora meglio? perché secondo me per pregiudizio culturale siamo portati a dire che lavora meglio il centro A questo non lo sappiamo no 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 qua abbiamo dei punti sull'immagine del futuro non lo sappiamo sappiamo che il centro A volontari più ospiti economia ma meno ore il centro B stipendiati meno ospiti maggiore la qualità del servizio ma spende tutti i soldi non fa delle economie io sono molto d'accordo con te però il punto di critica il punto di interesse della gente è spendi tutti i soldi per pagare gli stipendi che il non profit nella mente della maggioranza il non profit è il luogo dove la gente campa ad aria dei poveracci io sono perfettamente d'accordo con te ed è su questo punto che dobbiamo e questo è il pregiudizio che dobbiamo vincere siamo purtroppo in una condizione in cui perché sei una onlus i tuoi dipendenti devono avere pochi stipendi tu direttore devi guadagnare pochissimo cavoli lavori per i poveracci e guadagni un sacco di soldi ma invece di prendere questi stipendioni perché non li date alla povera gente che ne ha bisogno questa è l'obiezione che ci si sente dire ma come ti permetti di guadagnare due euro al mese non ne puoi guadagnare mille e cinque e quei soldi in più li dai ai poveretti che stai aiutando per loro cioè scusa chiedi i miei soldi per pagarti il tuo stipendio perché questa è l'obiezione che ti fanno chiedi a me persona della strada dei denari per pagarti il tuo stipendio senza fare ragionamento che il mio stipendio è giustificato dalla professionalità che io offro per il servizio che do agli utenti finali che il mio stipendio è giustificato e dall'altro lato ci sono i volontari che sono fondamentali importantissimi ma che non possono proprio non possono non è per dargli non possono dare il medesimo servizio di un professionista voilà ora cosa succede però succede che molte volte anche chi è professionista si comporta come se fosse un volontario dilettante questo è il problema è lì che c'è motivo per cui ci si muove ci venga mossa una critica perché se i professionisti non si comportano sempre da professionisti ben vengono le critiche e per un'associazione che paga della gente che si comporta da dilettante la pagano tutti gli altri che vengono immediatamente assimilati al peggio tutti uguali tutti uguali servizio pessimo e stipendi altissimi mai più a mai più rivederci questo è il problema del pregiudizio culturale ed è un problema i pregiudizi bestie bruttissime è un problema che ha a che fare proprio con la nostra identità e con i nostri con il nostro mondo perché il dramma viene da dentro la malafede verso le organizzazioni non profit spesso è alle stelle perché ci sono dei soggetti che offrono un grande assist a queste critiche ci sono un sacco di soggetti opachi gente che presenta dei bilanci molto fantasiosi nel mondo non profit gente che usa le risorse per cose che non sono il bisogno degli utenti ma che sono chissà cosa altro acquistare beni avere macchine di servizio insomma robe che non strettamente servono certo avere una macchina in servizio se tu devi fare dei trasporti disabili è necessario ma non è necessario che il presidente di un'associazione per quanto piccola metta in nota spese la sua macchina per andare e venire da casa all'associazione ma io lavoro per l'associazione posso mica mettermi nel mio e no e no in questo caso si devi metterci del tuo perché la macchina la nota spese che carichi sull'associazione è se usi la macchina per l'associazione e da casa tua alla sede non è associazione mi permetto di dirlo io perché lo faccio e quindi attenzione non caricate note spese recarsi al luogo di lavoro perché insomma è un altro è un altro ragionamento non so come dire no oppure oggi non ho voglia di andare a casa a pranzo vado a pranzo nel bar vicino all'associazione e metto in nota spese a fine no e no se non hai voglia di andare a casa tua paghi mi spiace però ma così lavoro un po' di più faccio durare la pausa pranzo mezz'ora e sto di più in sede e no mi spiace non va bene almeno io dico che non va bene perché da queste piccole concessioni poi si rischia di sfociare altrove quindi essere integri il più possibile insieme a questo quindi al fatto che ci sono lazzaroni e faccendieri e residuati del profit che si sono riciclati nel mondo non profit ok qualcuno molto valido c'è ci mancherebbe altro c'è del managing altissimo però qualcuno invece ha pensato che il non profit essendo un luogo dove ci sono meno controlli e si è più buoni ci si può infilare eccetera attenzione insieme a questo l'altro problema che ci provochiamo noi stessi la ferita auto inflitta è che molte organizzazioni hanno disinteresse per i donatori non ce ne frega niente dei donatori non ce ne frega abbastanza li consideriamo dei bancomat non gli forniamo delle informazioni o se gliele forniamo ci permettiamo di fornirgliene a uso a uso nostro come piace a noi dirgli alcune cose quelle belle quelle brutte no tenerli all'oscuro dei dati sistemare un po' il bilancio a seconda di come non va bene se abbiamo conoscenza esperienza del customer care che certe aziende del mondo profit utilizzano dobbiamo assolutamente replicare quelle meccaniche nel donor care quindi anche lì prontezza nel rispondere qualità della risposta competenza quante volte è successo che noi per avere informazioni su una campagna telefoniamo a numeri verdi e dall'altro lato ci fanno aspettare 13 minuti prima di avere una risposta perché chi è dall'altro lato del telefono non sa non conosce si deve informare noi gli chiediamo delle modalità di donazione quindi già siamo molto orientati e dall'altro lato ci fanno aspettare i minuti per darci delle informazioni che di solito sfociano in consulti il sito è successo succede ma nomi grossi nomi nazionali in questo caso nomi grossissimi cioè è una roba che non è assolutamente concessa tu stai facendo tardi no se se vuoi cioè non non mi interrompi di questo punto ok allora vedo di di velocizzare un attimo secondo me la soluzione di questo problema è prendere d'anticipo il mattino citazione da dai che vogli dare un cioccolatino vabbè tu l'hai già preso il cioccolatino la sai no davvero niente nessuno ok basta non ve lo dico perché così poi mi rimane la curiosità l'unica soluzione è prendere l'anticipo il mattino cioè essere giocare d'anticipo prima che ci chiedano delle cose i nostri sostenitori diamogli le informazioni e siamo trasparenti diamogli tutte le informazioni prima ancora che loro venga in mente di dire ma vabbè ma magari chissà se vanno bene i tuoi conti chissà se davvero davvero tutti i miei soldi sono andati a quella causa diamogli dati subito dati veri e responsabilizziamoli aumentiamo la competenza del donatore e spieghiamogli lo dicevamo all'inizio stamattina che il costo del fundraising e il costo della struttura sono costi del progetto esempio qualcuno contesta che con i soldi che io ti ho donato tu non puoi pagare la segretaria della tua struttura o bella e adesso la segretaria cos'è un pezzo esterno al progetto chi ti dovrebbe rispondere al telefono se chiedi informazioni l'operatore che sta magari in quel momento trasportando il bambino disabile dice scusami ferma un attimo la carrozzina e va a rispondere al telefono oppure si tiene il cellulare con la derivazione del numero della sede non dovrei avere una segretaria perché la segretaria non è un costo di progetto permette agli operatori di essere liberi permette alla struttura di avere le informazioni necessarie mantieni i contatti con l'esterno dove sta scritto che uno che realizza un progetto non deve avere una segreteria non deve avere spese di cancelleria che servono senza sprecare non deve avere un mezzo di trasporto perché magari la sua mission è proprio quella di facilitare i trasporti e i percorsi e il costo del fundraising perché non deve essere caricato sul progetto perché differenziamo i costi di struttura e i costi di progetto è una follia i costi sono unici i costi sono unici perché senza la struttura non ci sono i progetti c'è poco da dire il sostenitore che ci sostiene non può dire no però i miei euro non voglio che vadano alla struttura perché non ha capito niente purtroppo di come funziona il mondo spiace dirlo però è così noi per primi abbiamo fatto tanti errori nel sistema come dicevo prima riconosciamo gli errori però non cediamo alla sbagliata visione da parte della massa che vorrebbe dividere differenziare e chiamare alcuni più necessari di altri i costi di struttura dei costi di progetto perché questa differenziazione per noi che ci lavoriamo tutti i giorni non esiste ed è anche ed è anche logico è una battaglia durissima però dobbiamo battere 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 su questo punto tutte le volte che qualcuno ci fa l'obiezione ma dove vanno a finire i nostri soldi noi gli dobbiamo spiegare con i dati prendendoli in anticipo no? dandogli tutte le informazioni quelle che magari neanche lui poteva immaginare di poter ottenere dobbiamo spiegargli dove vanno a finire i suoi soldi ma che i suoi soldi vanno a finanziare davvero il progetto anche attraverso la struttura magari smettiamo anche di chiamarla struttura troviamo un'altra formula per definire che comunque è tutto costo di progetto a te interessa che il bambino faccio solito esempio il bambino oppure che il cane anche se randaggio abbia una buona assistenza ebbene quello a quello serviamo noi cioè i tuoi soldi servono a quella roba lì certe volte attraverso il telefono che chiama il veterinario certe volte attraverso la macchina che va a prenderlo in mezzo alla masseria e lo porta al canile certe volte attraverso la spesa fatta per il mangime certe volte attraverso un operatore stipendiato che viene a pulire perché noi dobbiamo fare altro e via dicendo questo è importante buon giusto per lasciarti uno spazio per la fuga ci vediamo domani ok ciao grazie mille comunque ciao ciao e buona fortuna ok avere pronte le carte da mostrare richiede tempo energie competenze ma avere le carte da mostrare è strategico per fare bene fundraising per massimizzare la trasparenza per migliorare la nostra fama e per migliorare la nostra fiducia interna nell'uscire a testa alta a chiedere il sostegno dobbiamo lavorarci tanto assolutamente se abbiamo le carte in regola dobbiamo verificarlo quotidianamente se dentro la nostra organizzazione noi non siamo i capi assoluti ovvio però se dentro la nostra organizzazione ci sono delle resistenze a mostrare le carte dobbiamo cominciare a porci il problema se abbiamo le forze se non siamo totalmente soli contro un muro di gomma dobbiamo sollecitare una maggiore trasparenza dobbiamo chiedere che tutto venga alla luce magari ci saranno anche dei problemi però magari questi problemi si possono sistemare un po' più facilmente c'è un c'è qualche bilancio che è stato fatto un po' più o meno quasi sistemiamolo qualche rendicontazione è stata fatta più o meno quasi vediamo se si può sistemare e il buon senso la correttezza e la professionalità sono dei valori assoluti se stiamo in un contesto dove nessuno sa fare il suo lavoro ma si sono messi insieme perché non sapevano cosa fare eccetera vediamo di sistemare progressivamente le cose io confido molto nella professionalizzazione del nostro settore non solo perché è uno spazio davvero di lavoro che darà occupazione perché ci sono dei bisogni reali e quindi non è una cosa campata per aria ma anche perché l'attività che il settore non profita il terzo settore in generale compie è ormai affiancata per importanza e per efficienza dei processi affiancata ai servizi di welfare pubblico penso proprio in senso a 360 gradi anche lì ci sono state come abbiamo detto delle criticità forti cooperative tipo A tipo B bilanci strani cose un po' soci lavoratori opacità eccetera cerchiamo di non aggravare la situazione quantomeno alleggeriamolo per quanto ci sarà possibile fine della tirata politica quindi iniezione di trasparenza e spirito di servizio perché comunque anche per fare queste cose ci vuole spirito di servizio l'ho detto prima magari ci costerà un pochino togliere completamente i rimborsi spese automobilistici per le cose noi magari ci siamo ma cacchio ma io però devo farmi 30 km 20 km tutti i giorni per venire a lavorare e tu non mi rimborsi le spese un po' di spirito di servizio poi se le cose vanno bene se i progetti vanno bene se il fundraising ha funzionato ci sarà spazio per compensare e per finalmente mettere un po' di rimborso spese un po' più grosso sacrifichiamoci un pochino quindi il rimborso spese non è sempre male? no ma come allora come forma di retribuzione mi stai chiedendo o come concetto il rimborso spese è legale è previsto è previsto per i volontari i volontari possono solo avere dei rimborsi spese dipende che cosa ti fai rimborsare però il discorso è quello per praticità ho messo a rimborso spese il numero di cellulare del socio volontario che è più attivo di tutti che però ha sempre quel numero e va in rimborso spese magari per praticità perché non ho voglia di sbattermi vanno in rimborso anche i sabati e le domeniche dove lui in associazione non c'è no purtroppo ti rifai la bolletta segni le telefonate e vai a rimborso spese di quella cifra lì capisco che è uno sbattimento però però per esempio quel piccolo sacrificio ha un risultato di trasparenza forte e utilissimo dieci minuti tiratissimi per l'ultimo punto per il nono p per il prego il prego è l'altro lato del grazie ovviamente no grazie prego e poi c'era Achille Campanile questa non vi chiedo neanche chi è perché Achille Campanile non ricordo solo io non è vero però che diceva una finta pubblicità di un prodotto di una meravigliosa bevanda che si chiamava Lemon Frigo una pubblicità inventata lo spot era Lemon Frigo grazie diceva uno prigo rispondeva l'altro ecco Lemon Frigo grazie prigo e invece prego la questione è questa anche qui parte da una domanda qua siamo alla fine il crepuscolo la fine della lezione anche la fine di questa ampia trattazione del tema quindi al crepuscolo uno si pone delle domande filosofiche ad esempio la sera guardi la luna e dici ma questo problema me lo pongo solo io sono l'unico al mondo che pensa questa roba sono solo ovvero il problema è ma perché le organizzazioni non profit si occupano solo di chiedere chi di chiedere soldi di chiedere alla gente di attivarsi come volontari di chiedere di supportare una buona causa con beni o servizi chiediamo perché siamo convinti che sia giusto farlo no? le risposte possono essere sì possono essere ni e possono essere anche no però abbiamo ricevuto abbastanza prego ai nostri grazie uno ci dona qualcosa noi diciamo grazie perché ci hanno insegnato che si deve fare e lo sentiamo dal profondo del cuore di doverlo fare quante volte l'altra persona ci ha risposto prego perché ringraziare è importante e fa parte del nostro piano la fase del ringraziamento cioè il meccanismo attraverso il quale noi riusciamo a ottenere il prego in cambio è sempre tenuto in secondo piano pochissimi si preoccupano del ringraziamento in maniera proprio bella ragionata e strutturata perché in realtà ciò per cui ci alziamo dal letto ogni mattina secondo me non deve essere la donazione ma deve essere la risposta prego a un ringraziamento dopo la donazione perché se noi ci fermiamo alla parte economica ci manca la parte forte ci manca quella alzata di piede per poter fare insieme un altro passo ci fermiamo ai soldi e il nostro rapporto è finito grazie hai preso i soldi fine invece no soldi grazie e aspettiamoci il prego e se arriva il prego quella giornata non è andata sprecata vuol dire che i nostri ringraziamenti hanno funzionato hanno attivato un ulteriore feedback che secondo me è ancora più importante del denaro vuol dire continuiamo a ballare questo tango andiamo avanti insieme mi sei piaciuto ok tutte queste cose qua che è fiducia che è la benzina che ci permette di continuare a fare i progetti perché la gente con un soldo si dimentica e non basta devono essere ci piacciono coinvolti i sostenitori devono risponderci prego e dobbiamo metterli in condizione di rispondere prego allora fissiamo obiettivi economici e strategici questo è il percorso no fissiamo obiettivi esploriamo i mercati della raccolta fondi vediamo dove siamo posizionati eccetera scegliamo gli strumenti giusti per ogni azione di fundraising agiamo valutiamo i risultati e ricominciamo da capo questo è il disegnino del processo di cosa abbiamo parlato tutta questa giornata per ottimizzare l'efficacia della raccolta fondi bisogna quindi permetterci la possibilità di ricominciare da capo a ogni sollecitazione di fundraising andata a segno corrisponde un ringraziamento ma ringraziare va gestito la fase del ringraziamento perché quando ringraziamo ci si apre l'opportunità di come dicevo prima coltivare ancora un po' il rapporto il ringraziamento non chiude apre semmai dobbiamo vederlo in una prospettiva ribaltata apre una nuova fase futura è sempre gradito se nella lettera di ringraziamento abbiamo scriviamo appunto grazie è più facile che venga conservata rispetto a quella in cui abbiamo scritto aiutaci perché il ringraziamento ti colpisce in un'altra parte più cara più affettuosa i pochi minuti preziosi che ci concede un donatore quando lo stiamo ringraziando magari anche di persona dobbiamo sfruttarli per proporre magari una nuova azione non necessariamente di denaro può essere soft può essere una continua a tenerti informato iscriviti alla newsletter per esempio partecipi guarda organizziamo questo grande evento grazie mille per averci sostenuto ti faccio sapere anche che la settimana prossima o fra due settimane organizziamo questa serata eccetera eccetera se ti va di venire ci farebbe tanto piacere ti mando l'invito e così scopriamo tante altre modalità di sostegno oppure se ci sentiamo nelle condizioni di farlo lo ringraziamo per la donazione e gli chiediamo abbiamo fatto tanto insieme ti ringraziamo tantissimo i risultati sono ottimi adesso però ci permettiamo lo dicevo prima di chiederti qualcosa di più e quindi ricominciamo con un'ulteriore donazione chiaro i tempi li dobbiamo ragionare però cosa è meglio fare purtroppo il nome di Maria Grazi vi sto no vabbè qua ci sarebbe la risposta e le risposte no la facciamo è lì è scritta lì la risposta a tutto domani venite vabbè allora ve la posso dire mi avete fregato ma ve la posso dire la l'occasione di coltivazione la risposta a tutto a tutto cioè per esempio cosa è meglio fare tra occasione di ringraziamento come richiesta di denaro quindi strong oppure un po' più soft eccetera eccetera come per tutto quello che abbiamo visto oggi e vedremo anche domani cosa è meglio fare la risposta e la risposta è dipende dipende ma non dipende solo da noi dipende dalle condizioni ambientali da cosa la persona a cui ci stiamo rivolgendo dalla campagna che stiamo portando avanti dipende dipende perché va valutato caso per caso dipende perché magari la nostra esperienza ci ha portato a dire che è meglio una direzione piuttosto che un'altra dipende anche perché nessuna regola funziona veramente perché la regola che funziona è quello che funziona quello che funziona funziona può essere possiamo leggere tutti i manuali del mondo ma nel rapporto tra persone perché di questo stiamo parlando quello che funziona funziona quindi io vi posso dire le meglio cose e però prendetelo per quello che è dipende tenete a mente che le cose vanno provate e ciò che funziona va perseguito assolutamente fino al momento in cui non funzionerà più e non sappiamo perché allora dobbiamo cambiare strategia e vedere di andare avanti quindi chi ringraziare e come ringraziare e questo è un lancio per domani noi abbiamo il donatore al centro di tutto ho messo il decalogo ma il decalogo magari lo vediamo lo vediamo domani sono dieci suggerimenti lo dicevo stamattina su come ringraziare il donatore ci sono tante modalità diverse che vanno parametrate i ringraziamenti così come i benefit vanno parametrati alla consistenza della donazione quindi anche lì ci sono delle possibilità di spazio per esempio giusto per accennare qualcosa una telefonata il massimo del ringraziamento davvero bello per piccole donazioni per progetti piccolini cosa che possiamo fare tutti noi è una telefonata da parte di un volontario o di un dipendente dell'organizzazione al nostro sostenitore cioè gli facciamo sentire la voce di uno in primissima linea ok lo chiamiamo abbiamo il suo numero ci ha sostenuto ci ha dato una bella donazione molto importante lo ringraziamo in viva voce proprio guarda sono magari non ci conosciamo però io lavoro qui nell'organizzazione sono faccio per dire appunto l'organizzazione che fa il trasporto dei ragazzi disabili sono appena tornato perché ho accompagnato da casa a scuola e da scuola a casa Maurizio che tu sai è il ragazzino disabile di cui ci stiamo occupando prima di andare a casa è stata una giornata stancantissima a traffico Maurizio poi aveva una giornata un po' fastidiata era messo un po' male di suo quindi vabbè è stato molto doloroso per me però tutto sommato mi sento di doverlo fare sono stravolto però non potevo chiudere questa giornata senza alzare il telefono e ringraziarti tantissimo qua in sede mi hanno detto che l'altro giorno hai fatto un bonifico di 400 euro per il gasolio del pulmino che stiamo utilizzando davvero è stato fantastico sapere di poter contare sul tuo sostegno e iniziare un dialogo così un ringraziamento una telefonata qualcuno degli operatori qualcuno in prima linea coinvolto che ringrazia il donatore vi garantisco che il donatore va in brodo di giugio le impazzisce per voi e non vi lascerà più probabilmente non vi lascerà più primo esempio secondo esempio una bella lettera quindi una roba un po' più freddina dipende dal donatore anche qui parametrare la cosa una lettera personalizzata magari anche scritta a computer però la firma deve essere fatta a mano perché quella roba colpisce e dentro se possibile raccontiamogli la storia di questa mattina mettiamogli la foto del beneficiario la foto della cosa che abbiamo realizzato grazie al suo sostegno o a parte cioè in parte realizzata grazie al suo sostegno cioè nella lettera di ringraziamento mettiamoci anche un po' di contabilità insomma del progetto di rendicontazione facciamogli vedere un po' dei progetti dei processi che abbiamo realizzato oppure semplicemente appena il donatore è disponibile dedichiamogli del tempo o appena lui è disponibile a dedicarne a noi dedichiamogli qualche minuto del nostro tempo spieghiamogli un po' di cose rispondiamo alle sue domande guarda sono tutto per te sei venuto a trovarci in sede abbiamo fatto un evento o un concerto allora è finito il concerto lo andiamo a salutare ti volevo ringraziare tantissimo di persona se c'è qualcosa che posso raccontarti sono assolutamente a tua disposizione dimmi qualche interesse sul progetto qualche punto che non ti è chiaro qualche approfondimento guarda sono tutto per te dimmi dimmi e rispondo alle tue domande ok questo è ancora un po' più freddo perché ovviamente è un'occasione differente piuttosto che telefonargli in casa nell'immediatezza della donazione però funziona anche questo e quindi per chiudere ringraziare così così quindi anche con una formula non pienissimamente efficace non si sa quando è il momento di farlo è comunque molto meglio di non ringraziare per niente perché noi ogni mattina ci alziamo per sentirci dire prego e se non diciamo grazie è molto difficile che ci torni indietro un prego questo vi saluto e vi rimando domani grazie oh mi sono svegliato grazie grazie grazie